C'è attesa per il vertice di domani a Palazzo Caracciolo per capire in quale direzione le scuole di comune e provincia vogliono andare in riferimento alla settimana corta. Le opinioni sembrano discordanti ma fino a domani non si riuscirà ad avere un quadro chiaro e non è detto che domani si arrivi a una chiusura della questione. Anzi, molti istituti superiori non hanno ancora investito il consiglio d'istituto per prendere una decisione, altre scuole si sono già espresse elencando le loro ragioni con i pro e i contro. Tanti i dubbi su come potersi organizzare soprattutto per la gestione delle ore da spalmare su cinque giorni, una questione che preoccupa in particolar modo le scuole superiori. C'è comunque da sottolineare che ogni istituto avrà una sua autonomia decisionale e che non c'è alcuna quota da raggiungere per far partire o meno la settimana corta. Ogni scuola potrà scegliere se aderire o meno alla proposta senza poter condizionare le scelte degli altri istituti. È una discrezionalità delle scuole. Invitati alla riunione anche i vertici dell'AIR perché sulle scuole che ospitano i pendolari potrebbe essere necessaria una riorganizzazione, anche se c'è da dire che le scorse sono numerose e coprono quasi tutta la giornata, ma non tutti i paesi. Per le scuole di competenza del comune, materne, primarie e secondarie di primo grado, le medie per intenderci, sembra che l'orientamento sia verso il sì a cinque giorni di scuola invece che sei. Il comune è pronto a questa eventuale situazione con una organizzazione già prevista sul trasporto scolastico. Resta comunque la possibilità che ogni scuola possa decidere per sé. In questo caso se non si avesse una partecipazione al 100%, bisognerebbe valutare se al comune convenga o meno. E c'è da risolvere anche la questione sulla tempistica ristretta rispetto ai tempi d'inizio della scuola. Tra una settimana infatti tutti tra i banchi. La direzione scolastica regionale infatti potrebbe ritenere non fattibile partire a breve con la settimana corta. Insomma domani a naso il vertice sarà conoscitivo, esplorativo, ma certamente non definitivo.